Oggi facciamo un video con la nuova GX-FX50 della Fujifilm, meravigliosa. L'importante è, il segreto, sentirti sempre te stessa comunque, le mani eleganti, morbida, non affrettare, non fare movimenti di scatto, tranquilla. Poi se non va bene la rifacciamo, ma non devi avere preoccupazione. Ci sono i dettagli da sistemare, perché i dettagli sono importanti. Fanno la differenza. Vai! E guardi, quando ho fatto di mangiare, lei è assaporata, eccetera, ma senza enfatizzare troppo, perché sembra proprio città di guardi, guardi fuori, e io ora lo vado a scoprire, guardi fuori, vai! E guardi fuori, guardi fuori, guardi fuori, guardi fuori, guardi fuori, guardi fuori, giocata, felice, bellissima. Allora, facciamolo invece, che lei arriva, si ferma lì, tre sequenze. La sequenza sul primo piano da sua mano che si avvicina e tu passi il gioiello, lei che poi lo porta a sé e mentre lo porta a sé sei tu che passi come un'ombra, come nel facciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.